Vai, vai, spingi la forza, vai, vai, vai! Spingi la forza! 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 Scusa, mi sei traversata! No, tranquilla, chi è uguale, uguale, vada, tranquilla! Antonio ha fatto un 360! Scusa! Siamo tutti? Scusa! 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 Grazie a tutti. 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 Sei rotto l'attacco? No, aspetta, aspetta. Almeno no. No, ma intanto non rendo la fotocamera va tutto piatto. Donio, scusami caro, la rimettiamo com'era. Dio che me la vende, è bello. Ma come si è andato? Ma è andato. E' andato. Quanto è alto questo? Quanto è alto? Quanto è messo. Ma neanche. Ci dici? Da qui a lì? ma dove vuoi passare? lì è dritto poi dopo qui andiamo giù la dietro vedi quella dove abbiamo fatto il giro dentro già dai ma come cazzo hai fatto? hai tirato il calcio? mi dispiace sai cosa facciamo? scendiamo di traverso e andiamo di lì dove? e ora ma io andrei diretti ma non ci sono ma io andrei diretti ma non non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai, piano piano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.